Tra le montagne dell'Alessinia la vita dei ragazzi non era diversa da quella dei coetani sparsi nel mondo. Tendevano ad isolarsi invece di stare insieme. Ma dal 2014 le cose hanno cominciato a cambiare. Un gruppo di ragazzi hanno iniziato ad usare la tecnologia con uno spirito diverso e a coinvolgere le giovani generazioni in un progetto innovativo. Sono nati i Micollego che condividendo la passione per la scienza accolgono sempre nuovi ragazzi nel loro quartier generale a Roverei Veronese. Ma soprattutto trasformano i singoli in un team. Questi sono i Micollego e vogliono testimoniare che il percorso è più importante del traguardo soprattutto quando si fa tutti insieme. Grazie a tutti i nostri spettatori Grazie a tutti i nostri spettatori